Molto interessante Wey ciccio Wey ciccio Ma che volete da me? Mi prendo a testate dove dico io Dai Boom Mano piena vai Allora con la mano piena io direi che ci peschiamo un'altra carta Ci diamo più potere Ci prendiamo lo scudo Prendiamo la mano Che la mettiamo così E ci prendiamo pure una spalla Andiamo qua e facciamo QQ7 Boom 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 Allora io direi che ci becchiamo una spada Uno scudo E una mano Boom Ricompensa da Dokkabum Che avevamo già comprato Ma va bene Ah Niente Ho provato a prenderlo Ma non me l'ha fatto prendere Voilà Un po' di soldini a noi Io ho quelle carte che il gioco dice che ci dovrebbero essere Due di quattro Ah perché l'ho trovata adesso la seconda Va bene Dai si Vabbiamo a prendere un po' di soldini Per piazzare E adesso vediamo qua Ci sarà la boss fight sicuro lì Sicuro scontato Ma proprio scontato Scontato E poi probabilmente possiamo tornare indietro E ritornare diciamo alla fase esplorativa Se così possiamo dire Ci facciamo le due secondarie E teoricamente abbiamo completato pure le secondarie Però dobbiamo prendere ancora due carte Magari volete due le altre secondarie Oh, hello there, Evan Tu piccolo monstero Ryan Tu vieni qui in una città piena di stranieri E la prima cosa che tu fai è distruggere la mia bella luna Si Oh, Evan Tu mi ha fatto molto angolo No Tu mi ha fatto molto angolo Oh, questi angolo Belli Madonna Ave, te li strapperò dalla testa Ho prometto Quando ti ho dato rime Tu hai detto che ho ottenuto Oh, tu hai ottenuto qualcosa Prendi un profondo Perché è la ultima cosa Che ti prendi da nessuno Oppure ti faccio un culo io Stai Oh, che brutta cosa Che brutta cosa No, muse Dai, ora adesso dobbiamo capire come si ammazza Va bene No, è calmino Allora Il fatto che c'è i soldini I soldini Il cristale da dare Oh, non riesco a prenderlo Maremma Inbestata Colpito No Vai, dai, sì Vai, dai, sì Ok, mano piena Vieni, dai, sì Veloce Veloce che vediamo cosa ci esce Due Che vai Meno male che ho uscito due Che palle Allora, proviamo a rallentarlo Vediamo se vale E vediamo se riusciamo a colpire Ah, era meglio se rallentavo le mani Ho sbagliato Vabbè Ma lo sto colpendo o no? Ah L'amato L'amato Non gli faccio niente Non gli faccio nulla Sarà divertentissimo Sta boss fight Merda Devo schifare bene Perché sennò qua No, non volevo lanciare il dado Ho sbagliato Eh Che schifo Vabbè Proprio il gran tranello Almeno gli faccio Un pochettino più di danno Dai Rompiamoci la spada Va bene Ah, merda Ah, aspettate Scusate solo una cosa, eh Scusate se interrompo Abbasso leggermente la musica Perché sennò qua Ho paura che sia troppo alta E devo riuscire a ricaricarmi la vita Ok, mano piena Lanciamolo Non mi sta dando gli elisir della vita Questo è un bel problema Continuo a non darmeli Però adesso mi ha dato uno scudo Che comunque va bene E bom, basta Facciamo così Bom Eh, ho sbagliato a schivare Ma dopo Per fortuna non mi ha preso Ho bisogno dell'elisir Ma tra l'altro Ho anche il super elisir Non l'ho messo nel mazzo però Maremma Oh Piscilo Mano piena, mano piena, mano piena Ok Ok, vediamo un po' cosa ci può dare Allora L'elisir Intanto per cominciare Non ho bisogno E la spada Sono le uniche due cose che posso prendere Quindi facciamo così Dai Almeno gli facciamo un pochino di danno C'è la battaglia di rive Gli farò del danno evidentemente Vediamo un po' che succede Prendi danno così No Sì Quindi Non ho capito Ma cosa serve la battaglia di rime Se comunque mi arriva un nemice a me Speravo che Gli facessi del danno Aia merda Devo stare attento Non prendere danno E non mi sono messo il super elisir Mannaggia me Dai Dai Boom Ok Altre cose Ma vaffan Gniele Ma non c'hanno punti Non c'hanno niente Bello C'ho uno Ottimo Mischiamo un'altra carta Vediamo se c'è un elisir No C'è un gran tranello Cosa me ne faccio di un gran tranello Allora proviamo a metterci Allora facciamo così Gran tranello Non ho la spada Quindi sarà divertente Usare il gran tranello Però magari gli faccio più male Comunque anche così Vai Dai Almeno l'ho ammazzati Facciamo che lo lanciamo Il dado E ci usiamo le elisire Buona nota secchio Dai Ottimo Ha tirato fuori una spada Allora io direi che lanciamo E ci prendiamo la spada Perché se no qua È un bel casino Guarda che non si fa prendere Entra non ci riesco E fatti prendere Maremmi E vieni Ok L'ho preso Ciao ciccio Mano piena 5 vale 1 Allora Lo scudo Sì L'elisire Sì Questo qua Sì E Mettiamogli questo Per ora Almeno così Riusciamo a Fare cose Proviamo a fargli un pochino Di danno Però mamma mia Gli stiamo facendo niente Di danno Sarà lunghissima Sta battaglia Fatta così Vai dai Vai dai Sì Vai dai Sì Vai dai Sì Mano piena Mano piena Merda Fritta in padella Ok due Con questo vado a tre Ehm Così Così E io direi anche Oh E usamelo Io direi anche così Così ci lo rallentiamo Gli facciamo pure più danno Sì Se lo colpisco Magari è meglio Un po' Un altro discorso Dai a metà vita Ci siamo arrivati Con un po' Di pazienza Sono lunghe Queste battaglie Non sono difficilissime Ma sono lunghe Dai vediamo Ma senza ruota E io Sendovi A un Ehm 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 Però non capisco Cioè vinco la battaglia di rie Ma comunque mi becco i nemici Magari se la perdo Me li becco peggio i nemici Nel senso più nemici O più difficili O Come dei malus magari E niente Ho rotto la spada Grazie mille Devo rimettere un po' Con sul mazzo Ehm 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 Ma non hanno Non hanno cose Eh vai a cagare Non hanno cose Non mi stanno facendo fare Niente qua Allora andiamo a tre Prendiamo una nuova carta Ottimo Tre bombettene qua Ok Ok mi sono autocolpito anche Però per fortuna non ho preso danni Eh Il martello Sì Beccalo il martello Devo fare tre Eh Ah no Eh sì Però quello lì è un elisir Niente ho sbagliato Vabbè intanto mi curo Dai Ehm Non posso fare altro Quindi niente Molliamo il tempo Va bene Devo capitarmi No Rallentatempo Non mi serve Veramente a nulla In questo momento Deve capitarmi Dell'altro Neanche quello Mi serve a niente Non ho un'arma Merda Ok E l'elisir Non mi serve a niente La spada La spada Vieni 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 Ottimo Così ci prendiamo sia l'elisir Che la spada Non male Non male Lo schiviamo anche Così Ci prendiamo pure la schivata Perfetto Probiamo che adesso lui Adesso arriva giù Prima faccio fuori la spada E poi lanciamo Il dado Sei Perfetto Ehm Facciamo che ci prendiamo La bomba Voglio vedere quanto danno Gli faccio con la bomba Boom Un po' La bomba è utile Con sto tizio Ancora Mamma mia Un cretino Ma cosa sei Ma ti ho fatto pure la rima Eh dai che palle Ma avevo appena finito di combattere Con quei tizi Ma perché di nuovo Ah ma si Uh colpisce anche lui Si deve aspettare che si Si deve aspettare che si Le ammazzi lui Praticamente Si è fatto male Ocadnis Facendo cosa Bravo bravo Colpisci i tuoi Genio della lampada Mano piena Vediamo cosa riusciamo a fare Allora Due Tre E con questo andiamo anche a quattro Ma eh Non mi serve niente Arriva da quattro Perfetto Perfetto Perfettissimo Mano piena Vai 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 Quando ci sono tanti nemici Sto coso folgore È ottimo Quindi ecco Lo mettiamo qua E facciamo così Boom Fantastico Merda che lo sto finendo Perfetto Ci siamo uccisi quello Ma mano piena Allora lanciamo E ho fatto solo uno Ottimo Mi sembra logico Continuiamo a pescare una carta Va bene No niente Andiamoci di mano Tiravogli una bella manata Vai Va bene Va bene Va bene Dai Ci stiamo quasi Per riuscire Ok lanciamo Il coso Perché tanto abbiamo Abbiamo questo E questo E direi che Ormai è morto E direi che ormai è morto Sto tizio Quindi lo massacriamo Va bene Non importa Che sono preso un pochino di danno Ancora Ah Finalmente Ok È stata una battaglia Comunque Impegnativa Nel senso Cioè è stata abbastanza L'unico È stata una battaglia Abbastanza impegnativa Mi è piaciuta Mi è piaciuta È stata Non è stata difficile Nel senso di Mero dalla parola Perché comunque Bastava scrivere Al momento giusto Poi ci sono stati dei momenti In cui c'erano tanti Demici a schermo Quindi Quindi è stata una bella battaglia È stata più che altro Molto lunga E più che altro Stiamo ancora nel mondo del 2 Che adesso lo andiamo A completare ben bene Facendo Finendo le missioni secondarie Andiamo a recuperare il blob Che non so dove sia E andiamo a portare gli occhi a questo E andiamo a parlare con Quello scipoli Come cavolo si chiama E Dopodiché passiamo al terzo mondo E io smetterò un attimo Di registrare Perché Sono più di due ore Di registrazione E noi siamo ancora al mondo 2 Quindi è veramente lungo Questo gioco Però vabbè Con calma Ce lo giochiamo Non è che Non lo avrebbero mai Realizzato Non lo avrebbero mai Non lo avrebbero mai Dai Ci sono Ok Si è aperta la zona Adesso andiamo Qui non c'è Gli occhi di triocchio Va bene Non c'è nulla da fare Quindi andiamo Direi è abbastanza easy Ci prendiamo dei soldini qua Soldi Là c'è la missione secondaria Che adesso poi ci torniamo Ok O è il triocchio Quello lì No Qui siamo passati da qui dietro Va bene Bello Prego prego zio Giustamente appunto Come dice Loro hanno queste doppie personalità Quindi si insano a parte Non si sentono completi Va bene Carta Tutto per tutto Bellissimo Voglio metterla nel mazzo Subito Devo metterla Posso un attimino al mazzo Perché Voglio mettere La campanella Voglio mettere Anche Super elisir E voglio Mettere anche Il tutto per tutto Ma si dai Ora devo togliere tre carte Allora Allora Il detonatrice È interessante La mano del re È interessante Allora La mano fortunata È utile C'è poco da fare Ne togliamo una Ne tolta una O ne tolte due No Ma la mano fortunata C'è ancora uno Ok E poi Direi Che tolgo Anche un L'attacco fogore Non è male Un boom singolo E togliere Eh la spada Io la toglierei Forse il martello Toglierei Perché anche se è molto potente Non mi arriva Tanto facilmente E soprattutto Costa parecchio Quindi Non lo so Va bene Ok Vediamo di comprarci Un Una mano E questo Ecco regalo Proprio La fedeltà Usa gli spilli dorati Da dimensione Per tenere da parte Una carta da tono Fino al prossimo lancio Del dado Oh Finalmente Bello Spiriti E cose varie Ok Adesso possiamo anche Tenere le parte Le carte da parte Le parte da carte Allora Aspetta Però non voglio andare Non voglio andare Non voglio andare Devo fare prima Le secondarie Ehi Cosa è Che succede Ho sentito Una storia Ma Ho i tuoi occhi Seymour Oh Le mie pepe E le pepe Oh Ti ho perduto Tanto Ok Non voglio fare Il tre Però adesso Ehi Mi piacere Grazie per aiutare Mi Praticamente Vedete Di nuovo E Mio Spero 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 Ah Se troviamo Degli altri puntini Gli possiamo dare Che non sarebbe male Così in combattimento Abbiamo più Roma Va bene Ma prima Dei altri scordi Cicciabella Dobbiamo tornare indietro Dai Ma non tutti i lanci contano Wow Ok Ora Non tiriamo il dado Perfetto Ricompensa Il tre Che mi ha dato Dai si finalmente ha tre punti Ora Evi dovrebbe aprire La porta di triscordia No Non l'apriamo La porta di triscordia Dobbiamo tornare Indietro I didn't do anything To my twin How did you It was a moment Of weakness I didn't think it through It's awful In the upside Downtown And I just knew I'd hate it there And Big Red Is so easy To trick Because She's me We're the same person Born into two different bodies I'm so ashamed She's got the best parts of the two of us She's so important to me And I just I've sold her L'ho già fatto L'ho già fatto Can you help her? I know I've already asked so much But That's it That's it Exactly You did Now she's going to kill me And I'm grateful That you gave her back The freedom to do so You've let me take back The greatest mistake Of my life And I know My relationship with Big Red Will never be the same But at least now I have a chance To fix it And here I'm going to I'm going to Soldi Va bene Missioni secondarie Ce ne manca solo una Ovvero quella dei blob Eee Torniamo indietro Torniamo all'inizio di sto mondo Devono essere qua per forza Questo qua skipiamo Tanto è un blob Non parla Molto interessante Ok ragazzi Allora Adesso andiamo a portare Il blob al tizio Io penso a quello di dietro Che mi era più simpatico Poi andiamo a Triscordia E appena siamo arrivati a Triscordia Direi che per oggi Per me finisce Poi per voi Sarà non so che video Quarto Quinto Eh no Quarto Quarto Quinto Con cavolo Nel senso In tutto sarà anche l'ottavo Nono Qualcosa del genere Vi avviso che avrò tagliato appunto Un bel po' di roba Perché ci sono tante cose Parecchio lunghe Che Non servivano a niente Sinceramente Anche io che mi sono perso Quindi No Sì Ciao Mi dai una carta Va bene Mi hai dato una carta Una carta Vabbè Ok Nulla di speciale Però abbiamo fatto Tutto Tutte le cose Tutte le missioni Abbiamo fatto tutto 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 E adesso direi che Andiamo un pochettino Avanti E vediamo cosa succede Adesso il fatto che ho quel puntino in più Adesso posso fare anche tre Come valore In battaglia E non è male Ci siamo fatti fuori la terra del due In due ore Speriamo che quattro tre Non vada in tre ore Perché sennò Quattro in quattro ore Quattro in cinque cinque ore Quattro in sei in sei ore Quattro in cinque ore Ok giustamente siamo nel Nel sogno di mezzo Perché questo c'è sempre Il sogno di mezzo Bello Così adesso è più pesante Adesso sentiamo il peso del dado E la peppina Un chiamato Questo è diventato un grosso sto dado Carino come incubo Il dado che ti schiaccia e ti ammazza Ma che cazzo Ma cos'è sta roba Ma cos'è sta roba? E perché qua c'è un punto Esclamativo Esclamativo E perché c'era un punto Esclamativo Ok questa non la sto capendo Però va bene Va bene Sentiamo le cose della nostra gemella Ci può stare Ecco Ecco Cosa diafalo ci ha fatto fare Un vestito sicuramente Perché se l'ha fatto a sud di misura Per noi Ha una maschera Che brutta Madonna E appunto Magari la maschera Le tribola il cervello Ci sta Ci sta Si rende un pochettino più cupa Questa storia Quindi stiamo vedendo Anche dalla parte di Odd Cosa succede E ovviamente Non se la sta vivendo bene Nonostante sia Se sti incanto Se sti incanto Dovrebbe essere Il posto migliore di tutti Quello dove vivi meglio E invece la merda Ok Siamo arrivati a Triscordia E poi direi che possiamo anche stoppare La registrazione Tanto quei soldini li dovrò sicuramente Riprendere la prossima volta Va bene ragazzi Detto questo Io sono abbastanza contento Mi sto divertendo Mi sto divertendo parecchio A giocare a sto gioco Veramente Una storia interessante È già un pochettino più particolare Del solito Anche il sistema di combattimento Quindi È abbastanza interessante Come gioco Comunque Non è neanche così corto Io mi aspettavo un gioco Appunto da 5 6 7 ore Invece dopo 3 ore Quasi mezza Siamo soltanto Al terzo mondo Di 6 Quindi magari Il terzo Il quarto Il quinto Il sesto I seduti durano 2 ore E ce ne mancano ancora 8 In tutto Quindi in realtà È un gioco Da più di 10 ore Quindi è un gioco Abbastanza lungo Però dai Ci può stare Ci vivremo questa avventura Con calma Io comunque Me la registro Diciamo abbastanza Velocemente Però Non voglio comunque Godermelo Infatti sto facendo Tutte le secondarie Cerco di fare tutto Il mio obiettivo È quello di fare tutte le secondarie Di prendere tutte le carte Di prendere tutte le pagine del libro Quindi scopriamo anche la lore Con le pagine del libro Non sto a vedere tutti Come vedete Tutti i discorsi Tutte le cose varie Perché sono un po' lunghi Poi diventa un po' noioso E comunque Come ve l'ho già detto Sicuramente negli discorsi video Molte conversazioni Molte parti Le ho tagliate sicuramente Perché veramente Siamo a 2 ore e mezza Di registrazione E mi verrebbero fuori Solo che 6 video Dalla seconda parte Che forse sono un po' tante Quindi vedrò poi In fase di editing Come gestirmela Per ora non lo so Però comunque Se vedete dei tagli È proprio perché Vi ho deciso Di tagliarvi un po' di zone Che magari Sono un po' meno interessanti Un po' meno Un po' meno fatte bene Oppure che magari Mi sono perso Quindi ci ho perso del tempo Va bene dai Detto questo Io adesso direi Che stoppo anch'io La registrazione E noi ci rivediamo A un prossimo video Io a breve poi Registrerò la terza parte Del terzo modo Bella raga Grazie a tutti Ciao 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 a tutti